ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale siamo tornati qui con fifa 22 oggi un video un po diverso così ho detto perché non portare le carriere che ho giocato da solo offline su fifa 22 ne ho tre però l'ultima che sto facendo ci ho sovrascritto diverse volte il file quindi avevo avuto anche altre carriere però purtroppo avevo il vizio di sovrascriverle una volta finite anche perché prima che facessi questo che portassi fifa sul canale allora andiamo a vedere la prima col napoli questa è stata forse all'inizio di fifa 22 tipo una roba del genere allora importa meret questi sono i giocatori non so nemmeno i titolari perché a volte li sostituisco così meret 86 26 anni culibali 88 32 anni racmani 81 29 anni di lorenzo 82 29 anni lazzari 29 anni 84 centrocampo vijnaldum 32 anni gravenberg 21 89 cabro a 31 anni 86 osimene 24 90 ferran torres 23 89 insigne 32 anni 87 poi pulisic 24 anni 86 pellegrini infortunato 27 anni 85 camavinga 25 25 80 vitale questo era il giovane della primavera 18 80 veramente forte airton 26 79 spero si pronunci così buffon 45 80 timber 22 81 questo tacax qui penso qualcuno dalla primavera 17 68 68 68 68 anni 68 20 anni 76 questo penso sia tipo terzo attaccato secondo attaccante uduokai 81 25 traore 27 80 immobile 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 il secondo 33 84 anghissa 27 80 frimpong 22 80 ed amico questo portiere penso pure dalla primavera 16 anni 66 16 anni 66 andiamo a vedere ora la classifica mi sa che mi sono fermato a campionato a campionato a campionato diciamo finito con 38 cioè 37 vittorie una sola sconfitta 169 gol fatti 22 gol subiti a quando ancora subivo pochi gol perché 22 gol subiti in 38 partite buo e buonissimo c'è la seconda miglior difesa chi è il sassuolo con 43 gol 111 punti vabbè con una squadra di quella poi qui giocavo ancora ho aumentato la difficoltà campione facendo i video qui giocavo ancora ad esperto e mi ero abituato che poi tra l'altro l'ultima parte no che a partita agosto l'ho pure prese l'unica sconfitta in casa col sassuolo addirittura che poi è arrivato ottavo eh andiamo a vedere le statistiche dei giocatori osimen in 44 presenze 65 reti e 20 assist cioè praticamente 52 gol in serie A 13 assist mamma mia mi ricordo in certe 12 gol pure in champions league in 12 presenze in certe carriere ho trovato osimen una bestia certe altre come nell'ultima che ho fatto che l'ho venduta era molto simile alla realtà cioè segnava ma non tanto immobile 17 gol in 23 presenze grande anche immobile questo sassu 11 presenze 6 gol buono tacks qui 9 presenze 9 reti e segnava soprattutto in coppa italia ferrantores 36 presenze 36 gol fenomenale questo mi ricordo questa è la carriera in cui presi ferrantores che era bestiale come ala perché ho sempre voluto delle ali che sappiano far gol e con ferrantores mi ricordo ho trovato quello che cercavo poi tra ore 14 presenze 6 gol non male insigne 7 gol così e così vitale 4 gol vitale le ha giocate però magari forse l'avrò fatto da subentrato però non ha spaccato in termini offensivi pulisic 9 gol non male poi cabro 28 gol penso si pronunci non lo so cabro non so come si dice in brasiliano pellegrino fiché non si pellegrini fiché non si infortunava il suo l'ha fatto gravenber 15 gol wainaldum 4 elmas in prestito camavinga fatto solo assist meppu non male 18 gol cioè 18 presenze 9 gol rispetto per lui anghissà un assistore ma ha fatto poche presenze poi avevo musurati ho preso perché questa carriera è a 2023 quindi il prossimo anno sarebbe stato a 2024 l'avrò ceduto in prestito al barcellona questo orzo unghierese ha fatto più 4 ma pure l'ho ceduto in prestito si vede che della primavera è venuto di lorenzo 42 presenze un gol frimpong 19 presenze l'acatos pure l'ho ceduto in prestito racmani 38 presenze un gol e un assist culibali 45 presenze un gol timber 21 presenze un gol kudokai 19 presenze ailton 31 presenze lazare 40 l'amico 0 buffon 12 con rete inviolate 8 beh buono buono meret 46 presenze 22 rete inviolate quindi andiamo alla prossima carriera allora questa qui due salvataggi di come è iniziata la squadra diciamo all'inizio e poi come è diventata qui avevo anzino questa è una squadra creata la smerald fenix l'avevo chiamata volevo portare una squadra creata anche come carriera su youtube però non ce l'ho fatta perché comunque ho iniziato tardi a portare fifa perché non avevo la scheda d'acquisizione magari potrei anche partire con una squadra creata su fifa 23 tanto avrò più tempo perché partendo da subito quindi ho mesi in più pure che non lo porto tutti i giorni fifa però dovrebbero uscire più video più carriere avevo anzini però era molto ballottaggio con i giocatori perché molto spesso anche i panchinari mi scoccio di modificare la formazione e li cambio io prima della partita anzelmi 65 braff jaden braff 67 martino 67 gavi 72 baturina 69 coppola questo era il giovane della primavera 17 anni 78 window 19 67 men g 19 67 martini 29 anni 72 questo forse usciva già dalla squadra proprio scalli 67 puffon 80 patino 64 suppi 19 71 camacho 28 anni 74 questo pure se non era usciva già dalla squadra 18 anni keki 68 gonzalez 20 anni 71 scarlett 17 65 chiri elenco 17 anni 65 dell'age forse non lo so se me lo dava già la squadra qui 16 anni 55 dalla primavera mi ricordo pirola 19 anni 67 balde 18 anni 69 non so se pronuncio bene bete 18 anni 64 pavoletti 33 anni 75 così mi piaceva pavoletti avere la squadra ricci 20 anni 68 se ricci 17 anni 67 avevo puntato molto sui giovani andiamo a vedere la classifica allora la classifica era ancora a campionato in corso quando avevo questo salvataggio milan primo roma 47 41 napoli 40 lazio 30 38 inter 37 atlanta 37 io non stavo andando male settimo posto e comunque a soli tre lunghezze dalla zona champions non mi ricordo poi se ottenuto la champions veramente mi sembra di sì ma non mi ricordo però se già per dire mi qualifico settimo a fine anno con quella squadra diciamo di giovani arrivare comunque in conference sarebbe un buon risultato 51 gol fatti comunque il migliore attacco 43 gol subiti tanti 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 e infatti sul settimo proprio per questo perché subivo la peggior difesa infatti no la seconda peggior difesa del campionato quindi figuratevi ecco perché mi trovavo 7 poi 7 sconfitte pesano 4 pareggi 11 vittorie anche questo era più o meno agli inizi di fifa se non erro e andiamo a vedere le statistiche fino all'ora cioè fino ad allora fino a questa giornata voglio dire allora statistiche anselmi 7 presenze 4 gol scarlett 12 presenze 3 ma scusate perché ma come me le ordine me le ordinati perché non me le ordina vabbè pavoletti 22 presenze 6 gol martinu 16 presenze 3 gol 11 presenze di keghi 20 brav 2 gol camaccio 8 presenze un gol bruno l'ho prestato coppola 24 presenze 16 gol il vero bomber trequartista anche il centrocampista poi mi sembra che poi l'ho spostato il quadista più 5 aveva già fatto 22 presenze 16 gol e tanta roba batulina 20 presenze 4 gol gavi 25 presenze 10 gol grande gavi guanzales 20 presenze 4 gol patino 11 presenze riche 6 presenze leon l'avevo prestato scalli 22 presenze soppi 21 presenze serie 3 presenze martini 17 presenze 20 presenze per me in bete spero si pronunci bene non lo so 5 presenze pirola 14 presenze un gol e un assist ah sto dicendo chi è come 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 ho gabrie gisus in pre poi è un omonimo perché difensore centrale guindo 16 presenze balde 6 buffon 23 presenze solo tre reti inviolate per forza con la difesa schifosa ecco tutti quei gol subiti doveva per forza avere poche reti inviolate bene andiamo a vedere poi com'è diventata questa squadra questa è nel 2024 rosa avevo preso raspadori 88 c'è abbe non so se qualche infortuna comunque ve l'ho detto la formazione poi mi scoccio di mettere titolare poi li metto io prima di iniziare la partita abbe 74 che 80 coppola 93 è cresciuto a 93 a 19 anni 19 anni gonzales 83 baturino 83 pure è cresciuto balde 77 mangi 78 pirola 77 scali 80 a secco questo se non ero l'avevo trovato a parametro 0 se la memoria non mi inganna poi rovella 81 ma io sono questo 85 20 anni a reggendi ibra è pazzesco come io anche scausalmente al 99 per cento è scausalmente io trovo trovo sempre magari non lo so quando circo giocatori sempre reggendi ibra tra tutti le gente trovo sempre lui ma che scusa al mente senza al 99 per cento non lo vado a cercare windows 76 21 76 aghirre 20 74 gavi questo mi fa il vice coppola 19 anni 86 poi c'è gosens che sicuramente gioca lui titolare però come vi ho detto la sistemo poi prima di fare la partita la la formazione 29 83 moretti questo se non ero il reggendi buffon 18 anni 76 poi c'è in bete che non è cresciuto tanto 20 74 tomori infatti sarà lui il titolare centrale 26 anni 86 novak questo mi sembra provenga dalla primavera acerbi 36 anni 76 docu infatti giocherà lui sicuramente titolare 21 anni 85 jaden brough 21 80 dominguez dal bologna penso per oggi così non lo so l'ho preso dal bologna 25 82 e questo roberts 21 anni 70 ore forse anche lui non so l'ho preso così per la panchino dalla svincolati o dalla prima era non mi ricordo 20 73 santos andiamo a vedere le statistiche si scusate la classifica che il campionato è terminato 98 punti per lo smedal fenix primo 31 vittorie 5 pareggi due sconfitte 128 gol fatti 38 gol subiti la difesa è rimasta un problema meglio perché quella a partita in corso avevo molti più col subiti all'inizio però comunque 38 gol so pesanti è tipo col napoli la prima carina come mostrato finire con 22 gol subiti e qui 38 gol subiti c'è differenza c'è differenza l'attacco è supersonico andiamo a vedere anche mi sono scordato ma sicuramente avrò vinto col napoli quasi tutto le altre competizioni coppa italia l'ho vinta i rigori non mi ricordavo gli interi corso per coppa 6 a 2 sul sassuolo champions league 5 a 2 col manchester city e c'è più alto vabbè c'era in atto anche il campionato dovevo fare il campionato europeo repubblica cieca portogallo islanda il portogallo pure nella carriera il giocatore di geni mi è capitato le statistiche invece sono le seguenti allora scarlet in prestito raspadori 42 presenze 43 gol con 32 gol in serie a in 30 presenze 9 in champions e 10 presenze due supercoppa italiana quindi tranne che in coppa italia che ha fatto una sola presenza ha segnato in ogni competizione mannaggia al motorino non so se si sarà sentito mentre parlo allora giri 12 presenze 6 gol 3 in campionato 3 in coppa italia magnison 38 presenze 31 gol 23 presenze in serie a 17 gol 2 in supercoppa 4 in coppa italia 8 in champions league luisi che ha segnato in tutte le competizioni buonissimo unissimo in regione di ibra fortissimo dall'altro martino in prestito docu a forse ecco perché dopo in panchina ha segnato po po e tre gol che chi spero si pronunci così caicchi che chi non so sette gol santos due presenze soltanto poi a che rele questo è un altro secondo me ho preso a parametro zero o dalla primavera che ho passato in prestito ottimo jeden 42 presenze 22 gol 17 in campionato 5 in champions league abbe se non sbaglio questo lo prese a parametro zero mi pare era veloce a me piacciono le gli esterni veloce quindi dice vabbè come sporadico ci può stare un gol in 17 presenze tomic l'ho ceduto in prestito coppola 41 presenze 26 gol 17 in campionato 1 supercoppa 8 in champions league straordinario cresciuto più 6 veramente come un minosauro questo se probabilmente avrei continuato la carriera questo arrivava al 99 sicuro gavi 33 presenze 11 gol non mali 10 in campionato 1 in coppa italia anche lui nicolas 4 gol in 23 presenze tutte segnate in campionato robert 7 presenze rovella 9 gol e 8 assist gonzales 10 gol 7 in campionato due in champions league 1 in coppa italia baturina 7 gol poi questo bozic l'ho ceduto in prestito croato gozenz un gol seric pure in prestito scalli 41 presenze 0 gol un assist novak solo 5 presenze 3 in coppa italia 2 in serie a bete non so se si pronuncia cosa ripeto sempre perché non so le pronuncio facciamo luke dai luke sono sicuro che si dica così 2 gol in serie a tomori 38 presenze solo un assist però 11 reti inviolate acerbi 20 presenze ah l'ho fatto giocare acerbi ah perché era un 80 comunque poi è decresciuto meno 4 quindi magari all'inizio qualche presenza l'aveva fatta perché comunque un 80 con l'esperienza dei acerbi non è da buttare men g 34 presenze pirola 23 presenze guindo 33 presenze balde 42 moretti 22 con 19 in serie a l'ho fatto giocare in serie a 8 reti inviolate 3 in coppa italia 2 reti in coppa italia ha fatto bene dai in tre presenze ha subito reti solo una volta chi rilenco l'ho mandato in prestito e vuxic pure in prestito e assenco 35 presenze 11 reti inviolate e questa quindi è statistica andiamo all'ultima carriera quella che sto ancora giocando io in off camera questa praticamente ho finito il il campionato ieri l'ho finito infatti dovrei fare mercato sono al 2025 questa sta durando un po' di più praticamente non potrò far vedere la classe come ho vinto tutto secondo triplete di fila in due anni infatti sono rimasto per cercare proprio va una cosa leggendaria tipo va io poi parlo va fantastico anche in off camera eh cose così sono così normale in off camera eh proprio per entrare diciamo nella leggenda tre tripleti di fila e formazione istruttiva praticamente questo campo che sarei io che mi son messo mi son creato eh non ho non ho fatto come jd proprio con il mio cognome eh 19 anni mi son fatto piccolo 98 arriverò a 99 sicuro perché mi per mi pare tipo 20 settimane faccio 99 ansufatti 88 un bappello ho preso per sostituire il foden avevo preso il foden che ho venduto a un'offerta irrinunciabile è stato il giocatore che ho venduto in tutta la storia di fifa al prezzo più alto 380 milioni foden al pari san germain e il bello è che l'anno prima lo volevo vendere a 300 milioni era il massimo che potevo chiedere perché non mi giocava bene però non riuscivo a vendere a 300 milioni non ho venduto non ho rimasto fatto la stagione buona e mi è piaciuta infatti ho detto vabbè se mi arriva un'offerta rinunciabile lo cedo però lo terrei perché la stagione me l'ha fatta bene arriva il pari san germain dico ecco se la devo vendere una squadra con lo sciico l'unico che mi può offrire i soldi al pari san germain il valore era aumentato metto 380 milioni boom il pari se li offre io lo cedo detto offerta rinunciabile vado a prendere mbappe che l'ho spostato alla destra fa l'upgrade era 95 96 poi è cresciuto anche a 97 ho ottenuto un mbappe alla destra un cuncu 92 27 anni milinkovic savic 30 89 barella 28 anni 90 akimi 26 90 dunfries 29 86 dias 28 92 dest 24 83 donnarumma 93 26 anni alland 24 44 umberto cancio questo penso sia il reggiano di chiellino bonucci 21 86 gravenberg 23 anni 86 militao 27 89 poi c'è guar 27 86 gabriel jesus 28 anni 89 bellingham 22 88 mendi 33 88 come panchinaro ci sta fra in pong 24 85 bremer 28 85 alvarez alla sinistra l'ho spostato alla sinistra qui 25 86 questo sarà un altro regen penso di ibra 20 anni 78 78 suncets 27 86 aron 23 83 ram 6 ed e 481 lungo 19 7 3 cv itanovic 19 75 braff ho preso a parametro 0 perché mi si era infortunato vinici us sette mesi mi race in carriera mi servivano perché era infortunato anche anzufati allora mi ricordavo proprio degli smeral fenix che era buono e l'ho preso 22 76 vinicius junior 24 88 enzo fernandez ecco perché l'ho preso anche nella carriera con sassuolo perché l'ho avuto qui ed è bravino muldur poi 26 77 beh che mi sono ritornati dai prestiti questi ebbe le statistiche non posso farli vedere per una squadra devastante altro a tutto questo budget che mi hanno dato e niente quindi queste sono le mie carriere su fifa 22 magari nei prossimi farò uscire altri video dove potrei portare i precedenti fifa perché qui su ps4 da fifa 17 a fifa 22 quindi potrò mostrare le altre carriere anche dei precedenti fifa quindi per oggi è tutto iscrivetevi al canale cerchiamo di arrivare 400 iscritti possiamo farcela lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video bye bye ciao